Buongiorno a tutti, oggi rientro dopo tanto tempo dal mio ultimo video. Voi che mi seguite sui social e chi mi conosce bene sa cosa ho passato negli ultimi dieci mesi, sa il dolore che sto affrontando e la rabbia che ho ancora tuttora dentro me stesso. Vi ringrazio tutti perché comunque in questi mesi non mi avete abbandonato, mi siete stati vicini e io ho potuto lo stesso comunque proseguire il mio lavoro con l'azienda con cui collaboro da qualche anno Essence. Oggi mi sono detta ricomincio, ricomincio da me, ricomincio con le mie proposte video e quindi sono lieta di dirvi che ci sono tantissime novità, nuovi prodotti nell'azienda Essence. Però prima di presentarvela e ve le presenterò in altri video, voglio dirvi che Essence non è solo prodotti per il nostro benessere, per la nostra casa, per il nostro make up, per la nostra salute, ma funge anche da agenzia di viaggi. Infatti con Essence noi possiamo organizzare le nostre vacanze senza l'aereo, solo in Italia, all'estero, come vogliamo noi possiamo scegliere. Infatti io questo weekend sarò a Vienna quattro giorni e non spenderò un euro perché utilizzo una parte di quelle commissioni che io ho maturato con il lavoro di Essence. Quindi sono pronta, riprendo in mano la mia vita, ringrazio tutti voi e ci risentiamo dopo la mia vacanza. Grazie ragazzi.